ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video ciao ragazzi sono Gaetano e qui con me ci sta coni tu ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi a grande richiesta il ritorno di Bombero Gaetano quindi distruggete il tasto del like quanti ne vuoi chiedere a zio 10.000 c'è un grande di stimo oggi cosa faremo oggi farò tutto quello che tu vuoi contento Gaetano si guarda un giacco di video e ha visto i video nelle vasche vero quindi lo facciamo anche noi ti vuoi fare il bagno oggi si sei sicuro l'accendiamo e allora oggi il bagno di Gaetano volevo ringraziare la mia fidanzata che mi ha regalato le luci adesso l'illuminazione non sarà più un problema ragazzi sì allora Gaetano adesso dobbiamo scegliere quali cereali mettere nella vasca con quale ti vuoi fare il bagno allora ti do la possibilità di mischiarli oppure scegliere un solo tipo ti vedo troppo indeciso devi prendere 10 scatoli scegli li tu vai 10 ne devi prendere vai vai 1 vai prendili Gaetano senza problemi vai 4 poi facciamo questo 5 poi facciamo Nesquik 6 poi facciamo pan di stelle 7 poi che fai non lo prendi i Frosties facciamo 8 poi facciamo meal pops facciamo 9 vai l'ultimo ok quindi con questo sono 10 ma con tutti questi cereali signor bambino lo sai cosa ci vuole anche latte allora Gaetano scegli un tipo di latte zio questo scelgo io perché perché è buono e gustoso mi piace l'idea e allora prendiamone quando è un litro prendiamone prendiamone tanti tanti prendi prendi beh penso che sono 10 litri di latte c'era un grande bagno signori e signori scusate se rimbomba ma la stanza è piccola ci siamo ecco qui la vasca abbiamo preparato tutti i cereali Gaetano gli ha presi uno di ogni tipo così farei il super bagno vero si sei pronto ma ma che cosa ma si e allora dentro nella vasca ora ragazzi siamo arrivati al momento più bello vero quello di si quindi a zio si comincia con il latte è acqua di latte e acqua di mucca bravo bravo prendiamone tanti altri con altro latte mamma non lo faccio a cazzo mamma io non lo faccio a cazzo mamma io non lo faccio a cazzo Prendiamo di giro con il latte! Con la rucca! Tu vuoi bere? No. Ok. Ce l'ho bevuto a pancina. Ma quanto latte ci vuole, Caetano? E' il mio trozzi! Ma si vuole prendere i trozzi! Ah, sono lì! I trozzi! Dovevamo prendere l'alte da 10 litri! Peccato che non abitiamo in America! Peccato, bravo! Com'è il latte? Com'è il latte? Eh! Sai che fa bene il latte in testa, zio? Si! In forza i capelli! No, ti riempisco il cervello! Anche! E poi continui il lattosio! Ragazzi! Sì! Ce l'abbiamo quasi fatta! L'ultimo! Questo è l'ultimo, Caetano! I latte! I latte e i cereali! 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 Cereali! Bravo! Bravo! Bravo, zio! Bravo, zio! Caetano, sei contento di farti il bagno del latte? Si! Iiii! Gaetano, siamo pronti adesso? Per mettere tutti i cereali? Si! Quale vuoi? Decidi il primo che andiamo a mettere, dai! Coki Pips! Perfetto! Frosties! Facciamo così, Caetano! Mettiamo prima quelli bianchi e poi mettiamo tutti quelli al cioccolato! Eccoli qua! I primi cereali che andremo ad inserire! Conto, Caetano! Vai! Mischiali, mischiali, Gaeta, mischiali! Che benessere! Ma che bello! Cosa te ne sembra? Bello! Ti metto il Miel Pops! Ok! Questi caetano sono al miele, fanno bene! Grazie! Già adesso guarda cosa c'è! Già adesso sembra che abbiamo finito! Invece abbiamo iniziato praticamente! Adesso iniziamo a fare! Quasi sul serio! Io direi di partire con i cereali croccanti alla nocciola! Nocciola? Ti piace la nocciola? Si! Come no! A tutti i bambani mi piace la nocciola! Eccoli qua ragazzi! Cereali croccanti alla nocciola! Tutti i festini! Yeeeey! Prossimo ingrediente! Direi di andare dentro con le palline e di mettere un po' di cioccolato! Aaaaaaah! Ok! A che giù! Direi di andare dentro con delle buone palline al cacao! Al cacao! E per iniziare a colorare un po' di cacao in questa vasca! Cosa ne pensi? Alla giù! Eccoli qua! Sei pronto Gaetano? Sì! Sempre in testa di un po' di cacao! Ueeey! Cosa te ne sembra? Beh! Vai Gaetano mischiali! Fai diventare il latte cioccolato! Mischia per noi! Vai Gaetano! Gaetano ci servono più cereali! E allora andiamo dentro con un altro pacco! I coca copse! Vai questi sono tanti! E quindi questi coloriranno sicuramente! Sei pronto? Guarda quanti che sono! Pronto? Sì! Vai allora questi li voglio mettere un po' alla porta! Sì! 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 Guarda qua! Che schifo! Che schifo! Che schifo! Andiamo con i Crave! Andiamo dentro con i Choco Crispi! Guarda li sono epici! Ne avevamo dentro un pacco in più! Questo c'è una favorazione! Ok! Vamoooos! Mischia i due cereali nella tua tazza latte! Eh tazza! L'impresa di latte! Vai mischiali! Ma secondo cosa ce la facciamo a fattivizzare il latte al cacao? Scrivetele in un commento! Poi perché ne abbiamo tre tutti e tre al cacao adesso che rimangono! Mischia questi finiscono subito però! LION! Guarda come piovono! Guarda come piovono! Per ultimo ho lasciato lui! Ma lui che ha cresciuto tante generazioni! La mia e la tua! Ok! Cacao! Pa pa pa! Cacao! Pa pa pa! Secondo voi diventerà latte al cioccolato? A te l'onore di versarti l'ultimo passo! Vai! Poi sei entrato proprio nel personaggio! Brava zio! E ora Gaetano? Mischia! Mischia le palline! Ma ecco si diventerà di sicuro però no! Da te l'onore di squeak diventerà! Ora mi tremo! Gaetano cosa si prova a farsi il bagno dentro una tazza di cereali? Ma non è comodo! Lo rifarai? No! Mamma non te lo fa fare? E invece tuo zio si! Perché tuo zio è bombero! Gaetano! Lo dobbiamo rifare o no? Ehm... Qua si ma in casa abbiamo... In casa non lo facciamo! Facciamo qua! Gaetano! Ma qua sta là! Gaetano dove sta? No mamma sta qua con me tutto a posto! Ehi io sto salendo! Oddio! Che cazzo sta salendo? Che cazzo sta salendo? Che cazzo sta freddi! Ehi un attimo Gaetano! Gaetano che fai in questa vasca? Oh bella il mar! No! Non so! E' stato di sogno! Ma mamma è una cosa di youtube! Ma la volete spettare? E' una cosa di youtube! Ma non è possibile! Ma non è niente! E' una cosa di youtube! Gaetano diggielo pure tu! E' una cosa di youtube! Ma che ti interessa di youtube? Ma ti prendi i conti? Ma ti prendi i conti? E' una cosa di youtube! Ma smettano! Cretino! Ma tu sei proprio un cretino! Ma Gaetano non alzati! Ma sei la sua quinta nonna! Ma non è santo! Ma non è santo! Ma è possibile! Che tutto quello che ti dice sul giro o due tu fai tutto! E' impossibile! Ma come glielo fai? Ma lei mi vuole bene ma! Ragazzi scusate per aver finito il video! Ma mia madre quando ha visto Gaetano nella vasca ha capito un caspito per un altro! Non aveva capito! C'erano i cereali dentro! L'ha visto così ed è andata a panico! Poi glielo ho spiegato con calma! Però sei incazzata di brutto! Ero ad ingazzare la nonna Gaetano! Eheheheh! Tu sei obbligata colpa a me eh! Comunque! Consigliateci la prossima vasca da bagno con cosa deve essere rinvita! Gaetano saluta tutti! Ciao bella! Ciao bombe!